Bella a tutti ragazzi, qui è il vostro Xcogna che vi parla. Nel video di oggi andremo a fare una piccola analisi di Legends & Legends, il gioco di Azra Games che uscirà nel 2023. Questo penso sia uno dei giochi più promettenti a livello di team, senza dubbio faccio fatica a trovare un altro gioco che venga sviluppato da un team di questo calibro e soprattutto ci sono davvero degli investitori importanti che hanno investito tanto e questo mi fa pensare che abbiano visto del potenziale in questo gaming studio che è Azra Games. Già vi avevo fatto un video mi raccomando recuperatelo se ancora non l'avete visto, importantissimo quel video perché in questo video andremo a vedere il gioco che hanno annunciato da poco e soprattutto le whitelist sono ancora aperte per la loro collection di NFT che uscirà quest'estate. Ragazzi, non perdetevela. Io vi dico solo questo. Quello che consiglio, che non è un consiglio finanziario, è prendere la whitelist e poi decidere se mintare o meno. Quello sta a voi, però prendere la whitelist è un'azione gratuita che se siete all'interno del progetto vi date da fare, riuscite anche a guadagnarla non troppo difficilmente e per un team del genere, secondo me, ne vale davvero la pena. Ma adesso partiamo intanto. Solita analisi, schietta. Vi dico, quello che penso, non sono stato pagato dal team, non sono sponsorizzato, conosco alcune persone direttamente del team e sono veramente tanto forti. Sono dei punti di riferimento anche per me all'interno di questo settore, quindi è davvero tanto importante. Però bisogna guardare i progetti con occhi oggettivi. Non fate l'errore di innamorarvi di un progetto e quindi vedete solo i lati positivi. No, è molto importante. Il 99% delle persone che si approcciano a questo mondo si innamorano di un progetto, riescono a prendere la whitelist di un progetto a caso e si fissano con quel progetto pensando che sia il migliore, quando in realtà purtroppo poi si rivela una fuffa. E a proposito di questo, ultima cosa, ho da clan, link in descrizione del server Discord internazionale di cui faccio parte, per cui lavoro. Mi raccomando, sono fantastici, quindi se avete dei dubbi, avete un progetto che vi sembra interessante e avete paura che sia scam, aprite un ticket e chiedeteglielo. Vi rispondiamo entro 24 ore, così avete la certezza di non cadere in degli scam. Ragazzi, è gratuito, è importantissimo per me e per lo sviluppo di questo settore. Io ci credo davvero tanto. Poi, mentre scorriamo in giù in questo fantastico sito, pollicione in alto, iscrizione al canale, campanella attiva, per non perdervi gli aggiornamenti di questo canale sui play to earn, play and earn, come li vogliamo chiamare. Ma poi partiamo, perché scogna, hai già parlato anche troppo. Sito molto bello, ottima grafica, davvero qualità molto molto alta. Mi piace questo bannerino che dice che la collection NFT Genesis uscirà nell'estate del 2022. E ragazzi, voglio essere completo. Probabilmente questo è uno dei miei top 3-4 progetti che minto a qualsiasi costo. Voglio accumulare, ovviamente in base alle mie finanze, quindi non spendendo più di quello che posso permettermi. Mi raccomando, seguite anche gli altri video del canale sul risk management, che è molto importante. Per il resto, più ne riesco a prendere col mio budget, meglio è. Perché io sono sicuro, io, per me stesso, che tra sei mesi e un anno mi ringrazierò di aver comprato questo progetto. Ma il tempo ci darà la risposta. Scorriamo, scorriamo in giù, belle queste animazioni, sono un po' lentine dietro. E io ho la fibra, quindi non so, forse è il sito un po' così, sugli altri siti mi va un po' più veloce. Mi piace tutto questo panorama dietro. Vediamo la game overview. Carino che si apra, lo sapete che mi piace l'immagine e il testo. Il testo non è troppo lungo, quindi ancora leggibile. È un collectible e combat RPG. Alla Elder Ring, a livello di RPG, penso collectible, si potranno collezionare anche delle carte o dei personaggi sicuramente. La storia è una civiltà che è sconosciuta alla terra, che è in una guerra costante, molto carina. E ovviamente noi dovremo combattere in questo scontro. Scorriamo, ci saranno anche delle creature meccaniche, quindi è un mondo fantastico dove incontreremo appunto robot, comandanti. Ci saranno un po' di mix a livello di creature. Avremo la nostra collection dove potremo costruire, scambiare, aumentare, mettere in staking o vendere. La scelta è nostra perché abbiamo la true ownership, quindi il vero possesso tramite la blockchain. Se compriamo una skin è nostra, la possiamo rivendere. Non come nei giochi nel web 2, che se compriamo una skin e poi non ci piace più o poi smettiamo di giocare, quella skin rimane nell'account e noi abbiamo solo lasciato i soldi lì dentro. Questo mondo sta diventando piano piano il mio mondo e quindi sono davvero contento. Si potranno anche prendere delle ricompense fantastiche attraverso appunto la costruzione di NFT, la vendita di questi NFT, oppure lo staking, oppure le missioni, oppure i tornei. Insomma ci sarà tanto contenuto per gli anni a venire. Abbiamo sentito un Ask Me Anything del progetto che parlava con Big Time, un altro progetto che ho coperto su questo canale, e parlavano di come questi due gaming studios hanno una visione decennale di questo settore. E quindi essere entrati all'inizio significherà davvero tanto. Scorriamo ancora in giù, bella la transizione. Qui c'è un NFT che ci ganca, letteralmente viene fuori. Ci racconta un po' la storia su cui non mi sto troppo a soffermare. Vi consiglio comunque di leggerla. Più a ridosso dell'uscita del gioco sicuramente approfondirò anche quella, perché essendo uno dei miei top 3 progetti NFT al momento, ovviamente approfondirò anche quello. Perché è importante fare quello che sto facendo su questo canale, ovvero conoscere tutti i giochi sul panorama che sono importanti. Però poi dovremmo fare una selezione di 3, 4, 5 giochi al massimo da seguire. Perché se ne seguiamo troppi è come se non ne seguissimo nessuno, perché non possiamo approfondire. Roadmap, importantissima. Summer 2022, ci sarà il light paper di questa collection e del progetto in sé. Vedremo se fare un video dedicato su light paper. Ci sarà il trailer, il trailer ragazzi è fatto da degli esperti. Il costo del trailer l'hanno stimato attorno ai 300.000 dollari. Quindi ci sono davvero tante aspettative e sono molto alte queste aspettative. Ci sarà il lancio del Genesis Mint. Su questo vi aggiornerò, vi farò sapere quanti ne ho comprati in modo trasparente. Per me è molto importante. Il lancio sarà su Ethereum, mi raccomando, ricordatevelo. Iniziate a fare delle scorte se non ne avete, ora che il prezzo è bassino. Ma non è un consiglio finanziario, anche perché adesso stiamo per entrare in recessione. Quindi probabilmente questo non è ancora al bottom. Ci sarà subito lo staking. Questo è importantissimo, lo leggeremo tra poco. Subito dopo il lancio della Genesis Collection ci sarà la possibilità di mettere in staking questi NFT. E quindi iniziare a guadagnare piano piano, passivamente. Ci sarà anche la Wave 2 entro fine anno, sempre della Genesis. Ci sarà anche gli NFT Commanders Mint a inizio 2023. Quindi capite che il range temporale è comunque da qui a un annetto. Ci sarà il Battle System Reveal, quindi il sistema di battaglia viene rivelato. E l'Aido del token Azra. Ragazzi, altro punto. Scorte, scorte, scorte. Ovviamente chi avrà la Genesis NFT avrà sicuramente qualche vantaggio per quanto riguarda l'allocazione del token. Io, il token, anche di questo progetto ovviamente, proverò a fare più scorta possibile sempre in base alle mie disponibilità. Ci credo davvero tanto. Investire nei gaming studios è una delle mie priorità in assoluto. Perché sono quelli che, secondo me, pamperanno di più nei prossimi anni. Visto che questo settore adesso vale qualche miliardo di dollaro. Ma tra qualche anno sarà sicuramente con qualche zero in più. E quindi anche i nostri investimenti potrebbero essere con degli zero in più. Mi raccomando, fate sempre le vostre ricerche. Approfondite anche nell'OddaClan. Ci sono degli analisti che sono fantastici. Battle System Demo nel 2023 è... Qui sembra, insomma, metà 2023. Quindi da oggi più o meno un annetto all'uscita del gioco. Ma le tappe importanti sono il token IDO, quindi il lancio del token, e i mint delle Genesis. Mi raccomando, seguiteli su Twitter. Entrate sul loro Discord. C'è il bel pulsante qui sotto. Tra tanti portati su questo canale, che sono molto interessanti. E ovviamente io voglio approfondire tutti. Questo è in particolare un occhio di riguardo. Vediamo dopo, appunto, la Genesis Collection NFT. Secondo me faranno qualcosa di molto figo. Già qualche spoiler c'è stato su Twitter. Io sono molto molto bullish. Davvero tanto. Sarà un Play Forever Pass. Nel senso che... Gli acquirenti potranno mandare in Exploration Missions, cioè in Staking, subito dopo l'aver comprato. E appunto daranno delle ricompense in base al personaggio che abbiamo. Sarà su Ethereum e gli NFT saranno capaci di interfacciarsi nei giochi che loro costruiscono su qualsiasi altra blockchain. Perché, essendo che Ethereum ha dei costi di transazione molto alti, ha delle gas fee molto alte, probabilmente il gioco sarà su un layer 2, come potrebbe essere Polygon. Ma comunque i nostri NFT potranno essere utilizzati anche su quelli. Perpetual Utility. Questi Explorer possono essere utilizzati per generare risorse che potranno essere utilizzate all'interno di Azra oppure vendute ad altri giocatori e quindi farci fare dei profitti. La Limited Supply è molto importante, ce ne saranno solo un tot. Ovviamente anche la rarità cambia e l'utilità ovviamente in base ai giochi. Questo NFT garantirà delle ricompense esclusive in ogni progetto che Azra Games, questo gaming studio che da qui a 10 anni vuole fare la storia di questo settore, avremo delle ricompense in ogni loro gioco. Più di questo io non so che cosa pensare. Ovviamente ogni NFT avrà la sua narrativa, la sua storia e ci saranno delle ricompense esclusive. Ragazzi ci risentiamo tra 6 mesi e un anno e vediamo se avevo ragione o avevo torto. Poi questa è una piccola analisi perché ovviamente non c'è molto da dire uscendo tra un anno ma è per tenerlo d'occhio fondamentale e soprattutto per tutti quelli che si interfacciano a questo mondo. E interfacciarsi a questo gioco adesso davvero sarà una cosa speciale quando poi partirà. Ci sono degli sponsor dietro enormi, cofondatore di Twitch ha investito, milioni e milioni di dollari hanno investito in questo gioco. Il team è davvero tanto esperto ma di questo avevo già parlato nello scorso video quindi mi raccomando andatelo a vedere. Per il resto ragazzi non c'è altro da dire. Mi raccomando rimanete sintonizzati su questo canale per non perdervi le novità fiammanti dei vari giochi play to earn. Con un mi piace, l'iscrizione al canale, campanella attiva, supportate x cogna. Entrate nell'OdaClan perché anche lì ci saranno aggiornamenti su quando potete vincere le whitelist, quando si aprono dei contest per i migliori progetti. C'è anche quella funzionalità lì. Io ragazzi vi aspetto al prossimo video, è stato un piacere passare questo tempo con voi e noi ci rivediamo al prossimo video. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti.